Saluti, cari signore. Io sono Kryon, del Servizio Magnetico. Sono di nuovo qui, ma questa volta si tratta del primo incontro del 2020 per questa sorellanza. Il mio partner si fa da parte. Non è confortevole per il mio partner. E lo diciamo nuovamente, questo è l'unico momento in cui schermiamo il messaggio da Lui. Lui non è presente. È un accordo. Sebbene Lui sia a disagio, per il rispetto, non per le donne, ma per ciò che esse rappresentano. Farò un'affermazione. Questa sorellanza lemuriana non è tanto per la celebrazione del genere, quanto per la celebrazione della sciamanità del genere. Non esiste perché le donne mettano insieme ciò che è diverso rispetto agli uomini. È scontato che le donne siano le sciamane del pianeta. Cari mie, l'abbiamo detto ripetutamente, sapete che questo sta arrivando. Quindi la cerimonia sta iniziando a cambiare. Nel 2019 abbiamo anche detto che era in arrivo un riavvio della sorellanza stessa e di Meleha in cose che adesso sono più avanzate. E la cosa più avanzata siete voi che lavorate a questo rompicapo. E questo rompicapo non è ciò che significa essere una donna nella vostra cultura, ma è lo studio della responsabilità sciamanica per il pianeta. È diverso, lo è. Nei precedenti anni c'è stato il raduno delle donne che stavano iniziando a riconoscere l'idea di essere lemuriane, che facevano parte di qualcosa in quanto donna allora e adesso, e che c'era una connessione tra di loro. E potreste dire che adesso state andando da riconoscimento di questo alla consapevolezza di questo e al riconoscimento del potenziale di qualcosa di molto diverso. State andando verso lo studio, verso cosa potete fare come sciamane, non come donne. Perché la sciamanità porta in sé davvero la speranza del pianeta. Non diciamo sacerdotesse o pastori o ministri o rabbini. La parola sciamana sarà riconoscimento degli indigeni del pianeta, di qualcuno che conosce la verità fondamentale, non qualcuno che conosce una dottrina, qualcuno che sa come funzionano le cose e può condividerlo con gli altri in modo così gentile e sicuro. È la donna che sa intuitivamente come farlo. L'avete fatto per i vostri bambini e non è molto diverso farlo per il resto del pianeta, uomini e donne. Ed ecco il punto, non tutte le donne su questo pianeta apparterranno alla sorellanza. Voi siete laureate. Quelle poche di voi che vengono qui e siedono davanti a me e ascoltano Meleha, queste poche sono diverse dalle altre donne che non lo farebbero. Quindi la separazione non è necessariamente tra uomini e donne, ma tra coloro che si sono laureate, le sciamane, le lemuriane e coloro che non lo sono. Lo abbiamo già detto, non c'è un ramo che è migliore o più facoltoso o ne sa di più. Riguarda coloro che sono andati alla scuola della vita. Vita dopo vita, siete state su questo pianeta cari Signore. A volte come uomini, ma adesso finalmente come donne e vi sembra come se lo foste sempre state perché ricordate le mure in voi, quella che chiamiamo la linea di partenza della cash. E tornando come donne vi sentite più a vostro agio perché questa è la sciamana in voi. la laurea che avete è alla scuola della vita e non vi rende migliori, ma più sapienti e sagge. e quindi molti di nuovo si chiederanno sono davvero io? Sono venuto qui solo per dare un'occhiata. Non sareste qui se non ci fosse qualcosa in voi che dice che c'è di più qui di quello che gli occhi possono vedere. c'è una cash che risuona di verità. Non vi sentite un po' più sagge di molte altre? E non riguarda la vostra età e abbiamo molti tipi di età qui e che ascolteranno anche dopo questa canalizzazione. Chiedo a loro che ascolteranno dopo non vi sentite solo un po' più di saggezza rispetto agli altri? Ed è una saggezza che non parla e non fa. È una saggezza che giace silenziosa e sa. È una saggezza che mentre vedete altri fare delle cose voi sapete di saperne di più. Questa è la sciamana che detiene la verità fondamentale del mondo proprio come detenete la verità dell'essere madre in ciò che dite ai vostri figli mentre crescono. Questa è l'essenza della sciamanità appartiene al genere femminile. Ecco perché siete qui ma va oltre le cerimonie cari miei. La cerimonia è qualcosa che semplicemente vi prepara per ciò che è in arrivo. L'azione. Azioni perseguibili a casa attorno a voi nella vostra cultura e società e che magari non avete mai fosse complicata. Cose dove magari non vi siete mai fatte valere prima ma non con una presa di potere ma in modo saggio compassionevole e amorevole. vi dirò qualcosa. volete parlare degli uomini di come sono e come li considerate. Il cambiamento su questo pianeta che state percependo per voi stesse viene percepito anche dagli uomini e se vi dicessi che se radunasse gli uomini e diceste loro cosa sta accadendo qui loro si alzerebbero e direbbero congratulazioni era ora. L'umanità sa che le donne dovrebbero assumere la guida delle cose spirituali. L'umanità lo sa intuitivamente. Non sorprendetevi se gli uomini sono totalmente al vostro fianco cooperando al massimo. Non si tratta di un'organizzazione di donne cari mie si tratta di un'organizzazione sciamanica. Meleha vorrei che andassi al prossimo livello e desidero che tu lo faccia lentamente. C'è qualcosa che dovrebbe essere fatto e il dovrebbe è solo un invito sempre. ma il dovrebbe c'è perché è il passo successivo naturale. Cosa fai con un'organizzazione mondiale in cui hai donne in molti paesi che adesso celebrano ciò che dai nei tuoi insegnamenti ciò che dai nella tua guida e che porti dalle murie che tu rappresenti e dalle madri stellari che canalizzi quale sarà il prossimo passo spontaneo e che potrà aiutare questo pianeta? Adesso arriviamo al potere della coscienza e al potere del campo. cosa ci sarebbe di meglio di tutti i membri della sorellanza di questo pianeta che in qualche modo siano presenti nello stesso momento ma non in un luogo fisico pensi virtuale magari online come tu lo voglia chiamare con un software che possa farlo non è così difficile viene fatto continuamente la cosa più difficile è l'ora come farai con il fuso orario è scontato che alcune saranno alle 3 di mattina e per altre alle 12 tutte insieme in un modo che è bellissimo tutte le leader e tutte le donne e una volta che hai questa coscienza riunita quante sciamane saranno coinvolte e ciò che farai dopo è ciò che sai cosa potrai fare per il mondo adesso con tutte queste donne che sanno chi sono alla fine tutte insieme in un'unica coscienza un'unica ora un'unico pensiero questo può cambiare il mondo è fattibile senza troppa fatica è possibile ed è ora penso che lo hai percepito arrivare e se non è così adesso lo sai siete importanti signore davvero lo siete siete qui per un motivo è un motivo dolce dolce è un bellissimo messaggio stasera stando di fronte a voi di nuovo come Crayon e dicendovi che non è un caso se siete qui e così è grazie a tutti grazie a tutti